Buonasera amici di Fatto e Mangiato siamo lieti di dirvi che siamo di nuovo ospiti della fattoria Riccitelli Anzo è proprio il caso di dire che sta fattendo un fork, un arpecco mi si può dire e qui ci spiegherà subito Anzo che cosa stiamo combinando oggi qui come ogni anno la tradizione vuole che in questo periodo di fattoria si macella il maiale grazie a Vincenzino che c'era la mano abbiamo fatto una scelta dei pezzi più importanti questo è un maiale levato in fattoria ha più di un anno della specie Landrace quindi ottime per quanto riguarda i prosciutti e per quanto riguarda gli altri pezzi il Vincenzino questo si chiama il prospallotto abbiamo la lonza di filetto e la lonza di collo diamo il guanciale il filetto le costatine la pancetta orecchie e piedi ottimi per fattoria a fagione una coppa una domanda ma tutto questo venditivo lo mangiate tutto voi oppure lo vendete? beh diciamo che noi ne mangiamo buonasera i nostri prodotti vengono venduti oltre che qui in azienda al mercato coperto di Pescara Centro quindi ci potete trovare lì tutti i sarrati mattina proprio il caso di dire fatto e venduto oltre a fatto e mangiato e in questo periodo cosa facciamo noi? una cosa importante facciamo il cip e ciap il cip e ciap è proprio grasso e magro fatti in balena eccoci qua pausa protecco e che facciamo durante la pausa protecco? ci cuciniamo il cip e ciap per stasera ecco qua quando metto in cucina pure qua eccoci qui la mia parte preferita la salsiccia o meglio la preparazione della salsiccia sono tutti un po' quelli ritagli dei cosciutti delle lonze e di tutto quello che fa parte del maiale una volta separate divise tagliate a pezzettini viene salata e impepata il pepe si sente? si infatti si sente e per i più duri salsicce di fegato adesso facciamo le salsicce con la salsicciatrice no come si chiama? l'insaccatrice quindi stiamo riempendo l'insaccatrice ok? è pieno? si il bucello animale sai che sembra? non lo vorrei dire no non lo dico no non ci serve è il momento della salsicciata che è una randrata una mia fregna questa va andare fatto e mangiato se fatte notte lupor che è nardè goccia canè goccia canè se fatte notte lupor che è nardè fai del pork fai del pork il soffitto tu mi spork tu mi balli sulla test e mi macchi tutto il resto tu qua ti amo spider pork giunti alla conclusione amici di fatto e mangiato ecco qui pronto il cip e chaff assaggiamo subito è pazzesco vabbè i complimenti a Vincenzo a te Enzio veramente non è assaggiato una cosa così buona fatto e mangiato la fine del maial lo vediamo la fine nostra lo vediamo grazie a tutti grazie a tutti